Con grande onore ho assunto il ruolo di capodelegazione su indicazione dei miei colleghi. Sarò la voce del Movimento 5 Stelle nel Governo. Raccolgo il testimone dal mio amico Luigi Di Maio, a cui vanno i nostri ringraziamenti per tutto quello che ha fatto in questi anni e per come ha lavorato affinché tanti valori del Movimento diventassero realtà. Così il Ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, ha la sua elezione per acclamazione con un post sulla sua pagina Facebook. La scelta è caduta sul guardasigilli che nei giorni scorsi avrebbe manifestato più di un dubbio sull'assumere il nuovo ruolo ma alla fine Bonafede ha accettato di subentrare a Di Maio ed essere la voce dei 5 Stelle nell'esecutivo giallorosso. Ora che il Movimento ha sciolto la riserva sul capodelegazione, il Premier Giuseppe Conte potrà accelerare sulla cosiddetta fase 2 dell'esecutivo a partire dalla verifica necessaria per stilare il cronoprogramma con cui le forze di maggioranza mirano ad arrivare a fine legislatura. So che ci sarà bisogno di grande determinazione, ha scritto ancora Bonafede, in un momento così delicato nella storia del Movimento, così come importanti saranno le sfide da affrontare nei prossimi mesi.